Sì Vabbè però sì vabbè ci sarà la squadra abbiamo oggetto e scarso su C'è il presidio Buona Oh che bello Oh però dovete fai seri perché davvero me avete rozzo il cristo Ma vaffanculo No rimessa motoslitto cosa sa la pranzo No 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 ma che sa la pranzo ma sei down No no come il primo round è rimessa Se ci vinciamo bene Va bene Va bene Rimessa motoslitto Ma perché se voi parlate io non capisco più un cazzo Se voi parlate Barricate la stanza Dobbiamo proteggere il contenuto Regà io non capisco una mica se voi parlate sempre Dio buono Anche io non capisco un amico Ma tu come fai a non capire se sei l'unico che parla? Infiniti Ah l'unico Infiniti Tu che hai Infiniti Sei l'unico che parli come fai a non capire? Zitti un attimo Infiniti te che hai Tizio Non vedete qui ci va Tu a piazza ne solo uno e poi stai proprio qua e aspetta senti dove lo metti Sì capito troppare il venditri che quando sento che ti posso avvisare le azioni Niente per prendere il vendito Poi appena finito loro devo ritogliere poi quando sento che ripiazza Tra vabbè Poi ti fa Gli opono Gli opono Vabbè Gli opono Basta Basta Gli opono Zitti tutti in una Oh vabbè Gli opono Zitto Guarda Gli opono Ecco La ma donna Vai 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 quando già iniziata la ritornazioni non posso no invece sì che poi invece sì che poi mamma mia che cazzo fa dai seguiti male per primo più di posto lasciandata bella taglia allora cerchiamo di ribaltare la situazione per fare belle rotation bella 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 giocato bella eccola eccola ma pure dropshotata mamma mia la 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 bella vai busciate busciate raga aiutate in latina mano busciate busciate è in quella stanza lì a te mamma mia sì che madonna sì che sì beh mamma mia la seconda ricarico copritemi che down copre file a 50 è male bella no che minta così bravo stiche battene battene nuove ma infine tu c'è levati levati lì poi capo anche la seconda zona si fai pure la seconda zona ricarico aspetta prima che passate la piena mi coprite se vedete che io entro perché non coprite ma non l'idea ma non l'idea fermo bella aspettate che video non l'ho no no il finito l'hai visto l'hai visto l'hai visto sta sdragliato dietro di te ecco l'hai visto l'hai visto ok vabbè non muro sta tutto a sinistra qua a sinistra dietro ai barattoli si hai barattoli ok no 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 occhio occhio sta sdragliato abbassati bravo fai il giro 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 poi poi cercate di ucciderli da qua da qua a sinistra vai 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 fai quello che sta sdragliato occhio sta sdragliato abbassati che fatti fai il giro sulle scale sta sulle scale raga sulle scale di留言 si che a fine che ti entri pensi che entra sì che sei down td puoi entra lui che sta dietro lui campero ancora da dietro ma che ti stavo l'opero avrei giocato un round stavo a fare una cosa calm che schifo 405 mamma mia che schifo Eh, io ho due sedi.